Il counseling. Il counseling rientra nelle varie attività inerenti l'aiuto, la relazione di aiuto. Non è una vera e propria professione perché non ha un suo statuto giuridico, a differenza invece dello psicologo, dell'operatore socio-sanitario, che comunque sono riconosciute come professioni. È differente dalle altre psicoterapie per tutta una serie di scopi, di ambiti di intervento e per quanto riguarda anche la formazione di operatori e quindi anche per il suo statuto professionale che non è ben definito, non è ancora ben definito. Rientra in quelle professioni scritte nell'albo del CNEL, professioni non riconosciute come ad esempio quella del pedagogista. Pur risalendo agli anni cinquanta del novecento, in Italia il counseling appare soltanto negli anni novanta con alcune associazioni di settore ed è, si è sviluppato, ripeto, a partire dagli anni cinquanta nell'ambito della psicologia umanistica. Ci sono tanti indirizzi diversi, oggigiorno la maggior parte di essi si richiamano a modelli teorici delle psicoterapie, quindi c'è un counseling sistemico-relazionale, uno esistenziale, fenomenologico, uno cognitivo-comportamentale. Diciamo più specifico è invece l'indirizzo rogersiano che riguarda appunto il counseling, fondato appunto da Carl Rogers, uno dei principali teorici del counseling. e Rogers era, diciamo, fortemente convinto della sua specificità. Gli scopi del counseling non riguardano la guarigione dalla patologia, che appunto può colpire un paziente, un assistito, ma riguardano tutte quelle attività di accompagnamento della persona in fasi specifiche, magari circoscritte, diciamo, nel tempo, della vita, diciamo, di una persona che può avere problemi di natura psicologica, ovviamente. Il counseling quindi non è una terapia, non fa diagnosi, non cura, quindi è una, diciamo, una sorta di agevolazione nei processi di cura, una sorta di facilitazione della cura stessa. Ma riformula, per così dire, il discorso del cliente, aiutandolo a capire meglio, offrendogli di sostegno, ascolto, non giudicante, attraverso quelli che sono appunto gli orientamenti che abbiamo in altre lezioni esposto, che poi sono quelli di tipo di stampo rogersiano. Ci sono molti indirizzi attualmente di counseling presenti nel mercato e alcuni si ispirano a modelli psicologici, come abbiamo detto, altri sono più di tipo filosofico e pedagogico, insomma, appunto negli ultimi tempi è preso piede anche il counseling filosofico, grazie insomma delle associazioni, come l'associazione Fronesis, che si interessa proprio di questa forma particolare di counseling. C'è anche quindi un counseling scolastico e appunto anche in Italia ci sono delle associazioni che si occupano della formazione dei counselor attraverso vari corsi privati, per lo più sono triennali, diciamo che possano essere riservati laureati, ma non necessariamente, diciamo, in alcuni corsi vengono accolti anche studenti con un semplice diploma di scuola secondaria superiore. È chiaro che comunque è richiesta per lo più, insomma, una preparazione sia di carattere medico che di carattere psicologico.